Ancora una mattina di altissima tensione all'assessorato ai servizi sociali di Via Roma, dove stamani un cittadino ha dato in escandescenza al termine di un incontro con l'assessore Luigi Biancalani e gli assistenti sociali. Si tratta di un settantenne italiano non nuovo a queste intemperanze. Proprio per questo stamani era presente un agente in più della municipale rispetto al solito. Un rinforzo che non è servito però, visto che l'uomo arrivato per chiedere un contributo economico, ha iniziato a urlare per poi prendere le sedie della stanza e scagliarle contro una finestra, mandando in frantumi il vetro. L'assessore in quel momento era già uscito. Sono subito intervenuti gli agenti della municipale che hanno bloccato l'uomo. L'anziano ha avuto anche un malore ed è stato chiamato il 118. Un'ambulanza lo ha portato al pronto soccorso. L'uomo sarà ora denunciato per danneggiamento. Secondo quanto ha preso, il settantenne pretendeva che gli fosse erogata sul momento una somma in contanti e a rifiuto ha perso la testa. In passato aveva già minacciato la dirigente dei servizi sociali e ora è allo studio una misura per impedirgli di avvicinarsi nuovamente alla struttura. Dal comune fanno sapere che l'uomo è già stato beneficiario di alcuni interventi di sostegno, in particolare un contributo scansa sfratto. Un paio di settimane fa si era verificato un episodio analogo quando un altro cittadino aveva mandato in frantumi il tavolo di vetro nell'ufficio dell'assessore strattonando quest'ultimo e ferendo lievemente una delle assistenti sociali.